ciao a tutti ragazzi ben ritrovati buon sabato allora oggi video leggerino nel senso che non era mia intenzione nemmeno fare chissà che cosa dovesse riuscire notizie di mercato nel pomeriggio le andremo a commentare insieme sono assolutamente disposto e disponibile a fare un secondo video anche se è sabato guardate cosa vi dico weekend solitamente poi ausa di nazionali cerco di riposarmi però siamo a tre giornate dalla fine del mercato e quindi potrebbe veramente accadere tutto da un momento all'altro è proprio per questo che vi invito a scaricare one football sponsor di questo canale youtube trovate il link in descrizione oppure potrete inquadrare con la telecamera del cellulare il QR code che appare in sovraimpressione veloce una foto e vi scarica one football tra l'altro su one football highlights di serie a serie b tutto il calcio mercato tutte le notizie tutte le ufficialità e proprio su one football potrete andare a leggere che ma lo avrete già letto dappertutto dujan vlaovic ha scelto la maglia numero 7 ricordatemi a memoria non ricordo chi è stato l'ultimo calciatore ad indossare la maglia numero 7 per la juventus simone pepe no forse era quadrado oppure brazzo saliamizic ecco sì probabilmente è stato brazzo saliamizic ovviamente questo è uno scherzo no un gioco una provocazione nei confronti di un cristiano ronaldo che ci lascia pochi giorni dal termine del calcio mercato estivo tra l'altro io capisco i tifosi della fiorentina che in questo momento non vedono il buon occhio vlaovic perché è esattamente quello che da tifoso bianconero ho passato con cristiano ronaldo vederlo andare via gli ultimi giorni di mercato in fretta in furia facendo di tutto per andarsene è una cosa che al tifoso non può far piacere e quindi come a me non ha fatto piacere l'atteggiamento di ronaldo loro non farà piacere quello di vlaovic mi sento di dire che il calcio è anche questo io ricordo di aver detto cristiano mi è sceso tanto a livello di persona condivido pienamente il ragionamento dei tifosi di viola che in questo momento non vedono di buon occhio vlaovic poi magari qualcuno capisce anche come io parzialmente potevo capire cristiano però fa parte del nostro spirito da tifosi è naturale che che sia così ad ogni modo non si parla di calcio giocato perlomeno si parla di calcio mercato e per forza di cosa le polemiche ci sono ora io non sono solito a buttarmi le polemiche proprio perché mi piace parlare di calcio di campo in questo momento siamo in pausa e seguo un po la corrente ma anche perché per due motivazioni una ieri ho fatto un video raccontandovi quello che mi è accaduto in una trasmissione a ocv e ho visto che avete apprezzato in tanti due perché continuate a taggarmi continuate a chiedermi posizioni su quello che è successo qualcuno mi ha dato del disonesto a livello intellettuale perché in un'occasione specifica quindi la partita col napoli ho parlato invece adesso non parlo invece io ho veramente la tranquillità di espormi su qualsiasi tematica e seguire un filo logico conduttore che per me vale uguale e cioè quello della salute prima di tutto di cosa stiamo parlando parliamo di un post su twitter che ha fatto dario andella sindaco di firenze se confermata la notizia che vlaovic abbia violato le norme nazionali sull'isonamento lasciando anticipatamente firenze è gravissima un campione dello sport e si comporta così che delusione covid quarantena questo è il tweet del sindaco di firenze allora parto da un presupposto quando ho avuto il piacere di portarvi qui sul canale fabiana della valle a mia domanda specifica al covid famiglia mi ha risposto ufficialmente sì è stato comunicato venerdì quando la fiorentina doveva diramare i convocati per la sfida al cagliari quindi il giorno prima della partita e quindi tampone di uscita dopo una settimana se venerdì avrà il tampone di uscita negativo allora vlaovic potrà muoversi e viaggiare in direzione di torino questo lo dicevamo mercoledì quindi era una cosa che era risaputa una cosa programmata una cosa che io nel mio piccolo da youtuber avevo portato sul canale ora mi viene un po non lo so il dubbio il dubbio dubbio dico dubbio per non dire altro che il sindaco di firenze stia portando avanti una campagna atta a guadagnare voti consensi tramite un po di populismo perché mi viene strano pensare che se noi nel mio piccolo sul canale youtube mercoledì avevamo già ipotizzato che il tampone di uscita di vlaovic sarebbe stato fissato proprio nella giornata di venerdì per permettere al ragazzo di raggiungere torino dove fare le visite mediche e tra l'altro non in extremis perché abbiamo tempo fino a lunedì abbiamo tutta la giornata di sabato tutta la giornata di domenica tutta la giornata di lunedì si poteva benissimo anche aspettare un giorno in più volendo però da normativa come ci ha spiegato fabiana era possibile farlo ed è possibile che ne ha conoscenza una giornalista ma il sindaco di firenze deve fare un tweet dicendo se confermate sarebbero gravissime lasciando quell'alone di possibilità ma allo stesso tempo dicendo un campione del calcio che dovrebbe dare un buon esempio si comporta così poi io non sono qui a dirvi fabiana è la verità assoluta come non sono qui a dirvi romeo non è la verità assoluta perché poi romeo ha fatto questo tweet ieri vlaovic ha viaggiato alla firenze a torino con la certezza di poterlo fare oggi ha potuto effettuare le visite mediche dopo l'ok dell'as del torino dopo un tampone negativo quindi non sono qui a dirvi fabiana e romeo sono due amici sono stati presenti anche in tanti contenuti hanno la verità assoluta il brutto sindaco di firenze no perché non è questo quello che voglio dire assolutamente no lungi da me però mi è sembrato un po un tweet bizzarro perché non si basa su certezze non si basa su fatti si basa su una possibilità buttata lì su una voce ho sentito in giro che diverso sarebbe stato vlaovic ha violato perché articolo 1 articolo 2 articolo 3 o vlaovic non ha violato perché articolo 1 articolo 2 articolo 3 oppure vlaovic ha violato perché ha fatto questo vlaovic non ha violato perché ha fatto questo il sindaco di firenze che alimenta una polemica di questo tipo devo dire la verità da parte mia non è condivisa però rimango aperto è io sono qui che rimango aperto alla possibilità che la juventus non abbia fatto le cose fatte bene e quindi nel caso in cui si arriverà a capire che la juventus ha messo in pericolo l'incolumità dei tifosi dello staff di tutti facendo viaggiare vlaovic da positivo o senza la possibilità di farlo poiché ancora in quarantena io alzo le mani è solo il primo a dire la juventus ha sbagliato assolutamente sì non mi tiro indietro da questa cosa ad oggi non sembra essere confermato nulla e quindi alimentare dicendo è però sai che avrebbe potuto forse ipoteticamente mi hanno detto che ho letto in giro ho sentito stiamo facendo dei castelli di sabbia dei castelli di carta non lo so è sembrata una roba di questo tipo in seconda battuta vi riporto qui una clip della bobo tv qualcuno mi dirà attenzione però luca non devi parlare della bobo tv non ha senso dire queste cose invece io vi dico personalmente parlare di queste cose ha molto senso per due motivi uno perché sono colleghi a tutti gli effetti sono ex calciatori hanno fatto una carriera incredibile nel mondo del calcio chi più chi meno ma sono ex calciatori sono attuali opinionisti su twitch sul digitale sono opinionisti digitali parte da anni che comunque anche un incarico il rai però io sto parlando di qualcosa che è accaduto sul web e dato che io parlo di calcio sul web e loro parlano di calcio sul web li ritengo miei pari miei compagni ci siamo arrivati in modi diversi abbiamo avuto preparazioni diverse abbiamo avuto contesti differenti ma alla fine siamo lì su delle piattaforme digitali a parlare di calcio e diventa ancora più importante perché loro sono a tutti gli effetti la trasmissione di calcio più seguita in italia forse anche nel mondo non lo so perché hanno i numeri pazzeschi quindi potrei dire anche nel mondo in italia sicuro sono quelli che sul web hanno i numeri più alti nel parlare di calcio e quando entrano nel contesto juve e vanno a toccare determinati tasti io credo che sia doveroso fare una precisazione prendere quello che hanno detto e commentare rosificerare dare la mia posizione per un motivo non tanto per il contenuto vi dirò perché il contenuto secondo me è condivisibile in larga parte non totalmente non al 100 per cento ma in larga parte sì ecco quello che hanno detto questo è la juve quindi questa squadra è uno scandalo che sia quinta quando manca un terzo del campionato questa squadra è uno scandalo che faccia zero tiri in porta san siro questa squadra qua quella che ha messo vlaovic è uno scandalo se voi non dite che è uno scandalo siete dei disonesti dei bugiardi dei falsi dei servi non siete giusti perché questa squadra che è quinta senza tirare in porta san siro che la juventus mai è accaduto nella sua storia che non tira in porta san siro è uno scandalo del gioco è un insulto al gioco questa squadra e ora io devo sentire che con vlaovic questa squadra deve arrivare quarta ma voi state offendendo la verità e qua sulla bobo tv la verità vi arrivi in faccia nei denti se la volete sentire o no perché qua si parla di calcio in maniera libera giusta e non siamo servi di nessuno quarta questa squadra che aggiunge vlaovic vlaovic in un calcio di proposta quello di italiano è un un calcio di non proposta quello che ha fatto l'anno scorso fanno la partita e la squadra deve arrivare quarta ora sentire falsi bugiardi servi e tanti altri epiteti divertenti simpatici nei confronti di chi non la pensa allo stesso modo dire che lì la verità ti arriva in faccia e nei denti ma solo una parte di verità far intendere che non esiste una libertà di opinione nel calcio ma che è necessario seguire un pensiero che quello che condividono loro secondo me è brutto al di là dei toni al di là del modo in cui sono state dette determinate cose sono state le parole quella voglia di far capire che io so come funziona il mondo tu no io lo so tu no nel calcio ognuno è libero di pensare quello che vuole poi condivisibile o meno io tante volte mi sono ritrovato qui a dire cose molto impopolari per tanti ma chi se ne frega nel senso questa è la mia posizione e non sarò mai qua a dire ehi tu che la pensi diversamente da me sei falso servo e bugiardo io ti dico la verità in faccia te la tiro nei denti se non la vuoi ascoltare sono affari tuoi ma di cosa stiamo parlando a livello comunicativo questa roba è gravissima quello che abbiamo appena visto è squallido non mi trattengo nel dirlo è squallido perché ribadisco il concetto di fondo secondo me è pure giusto non totalmente perché poi la clip successiva è elencare i trofei vinti dei calciatori della juventus per far intendere che quindi nei confronti dell'inter quelli della juve hanno vinto di più però mi vanno a mettere i trofei di rugani i trofei delle riserve mi vanno a mettere i trofei che ha vinto rabbio con il psg tra l'altro tutto questo inserendo trofei che quei calciatori hanno vinto con l'allenatore che si sta cercando di attaccare poi qua torniamo sempre un discorso antico che secondo me tra ad anni allegri ormai c'è questa guerra a distanza e ho notato una cosa tutte le volte che ad anni parla di queste cose non va a citare massimiliano allegri e anche queste sono cose un po particolari è che se sviscerate ti fanno arrivare a certe conclusioni sempre ipotizzate però certe conclusioni ti fanno arrivare ribadisco per me non c'è problema criticare allegri io stesso in questa stagione l'ho fatto in più di un'occasione e quindi penso di essere il primo a non essere il paladino a spada tratta dell'allenatore però su un canale che ribadisco essere il più seguito in italia e che quindi per forza di cose impatta e va a influire a cambiare le posizioni che l'anno scorso in una diretta colcino recoba tra l'altro ricordo si diceva che pirlo pirlo aveva un'idea e quindi quell'idea andava portata avanti e chi se ne frega poi eventualmente di come va a finire e quelli che si permettevano di criticare pirlo erano soltanto persone che in realtà volevano attaccare e sminuire il lavoro di sarri lo dice uno che per allegri sarri e pirlo si è battuto per tutti e tre senza mai negare gli errori che sempre personalmente sempre la mia presa di posizione senza dire che chi la pensa diversamente da me è falso bugiardo servo in mala fede no e allora allo stesso modo oggi non stiamo facendo la stessa cosa paragonando i trofei dei calciatori vinti e che quindi la juve ha l'obbligo l'anno scorso con cristiano rondo l'obbligo non c'era perché c'era questo legame di amicizia anche tra l'allenatore della juventus e l'interlocutore della bobo tv ma quest'anno non si fa nemmeno più il nome dell'allenatore non si va nemmeno più a dire è no perché si sta facendo una guerra nei confronti di una determinata persona perché a livello mediatico non ha avuto la stessa protezione che hanno avuto altri perché di questo si parlava di sarri all'anno scorso quando si parlava di pirlo dicendo che chi critica pirlo e chi esalta pirlo lo fa soltanto per sminuire il lavoro di sarri a me sembrano due pesi due misure due modi di approcciare due modi di vedere a seconda della situazione ma ancora banalmente quando sempre sulla stessa emittente si diceva che non è quanto si vince non è il titolo non è il trofeo a fare il calciatore e poi mi vengono a fare l'elenco dei trofei dei titoli vinti dai calciatori quando prende in considerazione se un calciatore è titolare o meno dalla nazionale per dire se è forte oppure no io penso che questo non sia il modo giusto di fare calcio ma questa è la mia posizione la mia opinione come non penso che sia la verità dire che fa calcio solo chi ha un'idea porta avanti chi ha quello stampo che piace a loro perché quella è la valore o verità non è la verità assoluta come ho trovato brutto quando un ragazzo poche settimane fa è stato attaccato proprio in quell'emittente perché ha definito alexandro scandaloso e no non ci si può permettere perché bisogna fare anche lezioni di vita perché lì non sia il bar dello sport sia la bobo tv e si fanno anche lezioni di vita e non ci si può permettere di dire che è scandaloso alexandro però ci si può permettere di dire che è scandaloso la juventus e in quel caso la lezione di vita non c'è anzi la sta servendo a me pare di notare una certa incoerenza e sono dell'idea che sia giusto farle notare certe cose proprio perché si parla del medesimo lavoro che faccio io perché questo è il mio lavoro e anche per loro è diventato un lavoro e sono i più seguiti d'italia secondo me è giusto farle notare queste cose poi è la mia presa di posizione voglio sapere anche le vostre ribadisco non si sta criticando il concetto perché il concetto è in gran parte condivisibile e sono il primo a dirvelo e sono il primo ad avervelo detto tutta la stagione non sono d'accordo quando mi si dice che invece la juventus con la rivodeo l'auvic oggi dovrebbe puntare lo scudetto perché si dimentica il fatto che sia meno 14 alla vetta proprio perché quel concetto è stato condivisibile all'eventus doveva fare nettamente meglio e quindi recuperare 14 punti in 15 giornate non dico che sia impossibile ma quasi diciamo che mi tengo aperto una bassissima percentuale piccolissima circa dell'1 per cento